È vero che le prossime elezioni saranno una scelta di campo tra il fronte della responsabilità, della stabilità, della serietà, della concretezza che farà di tutto per continuare il metodo Draghi e perché no per avere di nuovo Mario Draghi come Presidente del Consiglio. Questo è il nostro obiettivo prioritario e dall'altra parte c'è invece il fronte della irresponsabilità, della instabilità, dello sfascismo.